Noi ringraziamo per essere qua con noi. Grazie a voi, scusate. Grazie, grazie a tutti. E allora dicevamo che il 25 luglio ci sarà questo momento davvero importante perché voi lo sapete che il cinema e le immagini sono davvero a volte più significative delle parole quindi quell'occasione sarà trasmessa in PIN che oggi è diventato l'imperi di scegliere uno strumento di educazione e la realità. Forse è la prima volta nella storia che un film diventa strumento educativo. Quindi con noi ci sarà Alessandro Prezioso, dicevo che ha interpretato in maniera davvero straordinaria la figura di un giudice Roberto Di Bella, ci sarà la Monica Zabelli che è la sceneggiatrice del libro ma anche coagnotrice del libro e poi ancora Francesco Govella che è di rica De Gola e poi prendo ecco gli studenti delle forze di studio quindi vedremo alcuni lavori, alcuni video, alcuni cortometrati che ragazze appunto delle scuole non solo calabresi hanno realizzato. Quindi per me è davvero un onore, un piacere cominciare questa nuova avventura insieme appunto a Miguel Egeria e il direttore generale del Reggio Tino Resto che ormai è conosciuto in Calabria in una manifestazione che si svolge ogni anno e che veramente porta nella nostra terra i nomi più importanti, più prestigiosi del mondo del cinema. Quindi oggi nasce questa nuova avventura, breve, lo diremo, rimaniamo sempre ai tempi della legalità Grimine Impinito, scritto da due autori romani registi, scrittori e giornalisti Cristiano Barbarossa e Puglio Belelli saremo in diretta in collegamento con il TG.com di Paolo Liguori saremo in diretta con il direttore Paolo Liguori e tanti ospiti con noi ci sarà anche la diretta Facebook dalla pagina di Mandando Libri che ha creato questo evento nazionale e tanti ospiti illustri insomma davvero un romanzo che narra, prende spunto dall'operazione Grimine Impinito e che parte da Reggio Calabria per poi arrivare fino in Australia quindi scritto appunto da Puglio Belelli e Cristiano Barbarossa che io ho definito tra essere romani due scrittori calapesi e alcuni ecco hanno scritto questo libro ci sono talmente immedesimati nel nostro certo modo su pensanti e operanti che sembrano davvero due calapresi doc e poi l'ultima cosa la prossima settimana sarà esiglato un altro importante protocollo di intesa OBS tra la Commissione Antidracheta e il Consiglio regionale della Calabria per cui davvero questo forno per giustizia e umanità liberi di scegliere sarà istituzionalizzato in tutte le scuole calapresi di ogni ordine di grado e anche la Commissione Antidracheta e il Consiglio regionale contribuirà ad aiutare questi ragazzi attraverso la donazione di imporzi di lavoro e di imporzi di studio ma di questo parleremo nello specifico la prossima settimana quando faremo questa conferenza stampa un'ultimissima cosa e poi do la parola al direttore Michele Gidia ecco questo è un percorso davvero che ormai ha barcato le soglie nazionali e internazionali tant'è detto ecco questa antiprima assunta a settembre è il progetto giustizia e umanità che ci sceglie insieme all'Università Mediterranea con cui peraltro noi abbiamo anche il protocollo d'intesa con il professore Angelo Venezia Terraro che è docente di diritto privato europeo presenteremo questo progetto a 23 paesi dell'Unione Europea quindi davvero portiamo la Calabria non solo in Italia ma nel mondo per parlare di valori importanti, per parlare di legalità e soprattutto facendo vedere un'immagine nuova, l'immagine sana l'immagine operosa, virtuosa della nostra terra che ha la capacità di creare progetti che poi vengono emulati in tutta Italia adesso il pane di Giorgia Zilla, Michele Zilla, straordinario che porta la cultura a Reggio Calabria sarà un festival davvero innotativo con tanti 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 momenti Michele a te la parola sì grazie Bruna, grazie a tutti che siete benvenuti quest'anno noi durante il festival viviamo sempre una giornata alla legalità quindi sin dalla prima edizione abbiamo con la sezione cinema dentro le mura andiamo dentro il cancere a parlare di legalità a noi ci piace dire che facciamo evadere per un giorno persone che comunque sono dentro e per la libertà in quest'anno con Bruna quando appunto ci ha proposto questo protocollo io assolutamente l'ho accettato da subito diciamo come si dice e appunto faremo con faremo appunto con la tra l'altro come vedi questo protocollo di intesa noi parliamo di appunto mettiamo la cultura certo diciamo sottolineando arte, identità, educazione qualità della vita, decoro urbano, architettura e archeologia è chiaro che abbracciamo un po' tutto però assolutamente in questo momento cioè in quel momento della legalità in cui noi entriamo appunto in uno spazio dove c'è grande sofferenza il nostro messaggio appunto è quello di dare questa puntata e quindi siamo felici di coordinare queste scuole tutte le scuole che partecipano al concorso giustizia e humanità di interdiscegliere e prenderemo una giuria di professionisti ma anche di diciamo ci saranno anche le altre persone che non sono professionisti del settore cinema tra cui appunto come questo gruppo però oltre a quelli che ci saranno di parte della di questo progetto abbiamo pure attori abbiamo un produttore cinematografico e quindi faremo vedere questi portometraggi e che magari ne nasca un giovane nuovo talento e noi dall'altro qui abbiamo anche Antonella Postolino che è normale sta coordinando sta scrivendo appunto con la scuola di Billa che partecipano al concorso che noi la dediciamo appunto a un episodio del romanzo di riscegliere appunto di riscegliere di Monika Zabelli scritto con il magistrato ci saranno appunto gli ospiti che tu hai elencato stiamo lavorando per avere un altro sia il ragazzo che anni nel muschino che è un Nicol Grimaudo che tra l'altro è a Pizzo che sta girando un film per la Rai in punta volta che è la Fata Morgane che è una protagonista sperando che finisca che finiscono prima le riprese così possa essere anche presente a quella giornata che ripeto che siamo ben lieti di partecipare all'interno del festa quindi facciamo ora firmiamo il protocollo adesso la firma del protocollo un attimo facciamo ce l'hai tu la penna non ce l'hai? non abbiamo una penna? ecco sì intanto facciamo anche gli auguri a Domenico Surace che è diventato zio di Mattia quindi un applauso auguri auguri anche a Mattia e anche a Giovanni Surace che sono diventato ecco la scuola questa bella notizia adesso si sigla il protocollo in testa fra il reggio in festa e B.S. Michele Gioria e buonassimile ecco tu anche questo grazie mille e comincia una nuova avventura nel mondo del cinema ecco firmato 27 maggio 2021 sarà davvero un evento straordinario avere Alessandro Preziosi a Reggio Calabria qui per il Reggio Film Fest quindi un evento davvero straordinario c'è molta attesa perché voglio dire è un personaggio un attore famoso molto bello anche oltre che essere bravo quindi insomma eccole qua le signore contenti eccole qua per cui insomma davvero un evento per questo io ho invitato la ripaudo almeno per fare certo per fare un po' ecco come dire giusto per un fatto anche giusto di correttezza certo e quindi insomma Alessandro Preziosi Monica Zappelli che è la sceneggiatrice del film Liberi di Scegliere il giudice Roberto Di Bella e i tanti giovani che hanno realizzato questi video questi cortometraggi che riceveranno ecco queste borse di studio sono degli aiuti insomma per anche come dire stimolarli a fare sempre di più e anche per poter ecco insomma farsi un master approfondire farsi un corso particolare ecco sono delle borse di studio che poi ecco loro serviranno a loro ecco per le loro necessità a livello scolastico quindi insomma un grande evento partirà vuoi dire quando partirà il Reggio Film Fest quest'anno abbiamo fatto una sinergia con l'Officina dell'Arte e piuttosto che fare il direttore artistico di Giuseppe Piro Malle e piuttosto che fare una settimana come facevamo sempre facciamo 14 giorni dal 12 di luglio al 25 ecco quindi dal 12 all'Arena dello Stretto all'Arena dello Stretto veramente cultura teatro fighele cos'altro ancora mostre fotografici mostre fotograficche quindi potremmo fare anche la mostra del nostro Luigi Palamaro i dipinti i dipinti è un po' difficile anche perché lo spazio rio che sia però comunque soprattutto cinema molto cinema che la gente vuole ha bisogno le sale sono chiuso come sapete da almeno un anno e mezzo quindi faremo più film possibile chiaramente il covid ci ha liberato ma vuoi dire anche gli altri attori che parteciperanno in tutta questa grandissima Kermess so che ci sono dei nomi poi diciamo presenteremo poi ufficialmente un'altra conferenza stampa dove tutti i nomi elencheremo tutti i nomi che parteciperanno e perché ancora comunque siamo siamo in fase di in work in progress di programmazione del palimbo diciamo che sarà ecco una grande Kermess davvero una grande Kermess di attori di musica teatro cinema dal 12 luglio fino al 25 poi il 22 luglio sarà invece la giornata dedicata a giustizia e umanitari per gli scegliere insomma con il giudice di pella con preziosi di Lamoni del Zatelli e con i cortometraggi dei ragazzi con tutto rispetto per gli preziosi della Zatelli con i cortometraggi dei ragazzi di Gragnano di Napoli dell'alberghiero di Villa San Giovanni da Rosarno Loiaci di Messina e ancora Casate Novo di Brianza davvero tante scuole il Rivi di Reggio Calabria e ancora il Cassio Toro Don Bosco l'alberghiero di Villa insomma davvero tantissime scuole insomma che hanno aderito dalla Lombardia fino in Calabria a questo straordinario percorso una considerazione Bruna che è andare meglio dello scorso anno perché già lo scorso anno io ho assistito alle varie proiezioni Tortorella in primis con i vari e esatto andrete meglio vabbè ma c'è il lockdown quindi no ma hai ragione ma hai ragione veramente lockdown con Mimmo Toscano pure è andata veramente bene sono sicuro andrà meglio ma sarà sicuramente meglio e già quello dell'anno scorso è stato successo grazie 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 quindi insomma questa nuova avventura che vede insieme via è senso la squadra sta crescendo e si vede in particolare in particolare anche nelle scuole visto la sua attività nelle scuole nel sociale la ramma forte immagino a di sera che ha messo certo sicuramente perché appunto come diceva bene il direttore Michele Geria il cinema le immagini il film possono veicolare messaggi importanti in questo caso il film liberi di scegliere lo dicevo prima è diventato strumento di educazione alla legalità perché in tutte le scuole in Italia viene visto il film e molte scuole hanno adottato il libro quindi i ragazzi nell'ora di educazione civica proprio studiano liberi di scegliere e vedono il film e gli fanno un lavoro durante tutto l'anno dicevo prima che proprio ha avuto una risonanza talmente ampia che ha abbarcato i confini nazionali e a settembre sarà presentato proprio anche con l'università insieme all'università a 23 paesi dell'Unione Europea per cui che dire non possiamo che essere orgogliosi onorati io questo lo dico non per velleità ma perché rivendico il nostro senso di appartenenza perché dalla Calabria partono progetti virtuosi sani che vengono emulati e presi d'esempio in tutta Italia e noi di questo dobbiamo andare fieri ed essere orgogliosi io lo dico perché noi siamo partiti cinque anni fa a cui c'è la vicepresidente Pina Saracena e tanti dei soci mai ci aspettavamo di arrivare in tutta Italia di essere un'associazione che opera sul territorio nazionale senza avere finanziamenti da parte di nessuno con le nostre forze con il nostro teatro c'è il nostro Gianni Peste i nostri soggi Clevia Antonella che fanno teatro tutti in gruppo con il nostro ricavato siamo riusciti ad aiutare tantissimi ragazzi e tantissime realtà virtuose della nostra terra quindi insomma veramente e oggi portare la Calabria veramente in tutta Italia e non solo non può reprendere più orgogliosi la Calabria non è terra di malaffare di vestofanti ma è terra di tanta gente per bene onesta e operosa ribadisco onorata e orgogliosa di aver siglato oggi questo protocollo di intesa con lo straordinario grande direttore Michele Egeria per tutto quello che va per il cinema per la cultura nella nostra terra e onorata anche di presentare in anteprima nazionale l'11 giugno c'è la stampa ci sono i giornalisti siete tutti invitati a partecipare alla prima nazionale la presentazione nazionale del libro Crimine Infinito che prende spunto dall'operazione Crimine Infinito scritto da Bumbio Benelli e Cristiano Barbarossa saremo in collegamento con il direttore Paolo Di Uovi della TG.com per cui davvero è un evento nazionale e poi ci rivedremo nei prossimi giorni per quest'altra tappa importantissima con il protocollo di intesa con la commissione antindrangheta e col consiglio regionale della Calabria il nostro format giustizionalità libero di scegliere sarà istituzionalizzato nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado non solo in Calabria ma in tutto il territorio nazionale quindi così ecco non so cosa brutto di tanto lavoro di tanto impegno di gratuità del lavorare credendo nelle idee e noi ci mettiamo la faccia parliamo di argomenti di dati di temi difficili mettendoci la faccia io ringrazio lo Stato l'istituzione i procuratori i magistrati voglio ringraziare il prefetto Massimo Mariani che ci è sempre stato vicino la procura la questura tutte queste realtà con le quali noi collaboriamo che ci sono sempre state vicino quindi insomma la magistratura lo Stato i procuratori i questori con cui non lavoriamo che ci sono sempre stati vicini proprio per l'impegno che portiamo avanti nella nostra quotidianità a favore del bene comune diffondendo valori di legalità e giustizia bene quindi inserci la consapevole in sostanza ma alziamoci però meglio non è meglio il piede non è meglio con ecco sì è un bel quadro è un bel quadro trovano un punto d'incontro ecco e rilanciano rilanciano la propria azione potenziando diciamo avvalorando tutte quelle che sono le caratteristiche e propositive delle rispettive delle rispettive azioni e quindi gruppi di lavoro ecco come nasce questa sinergia e come si svilupperà allora intanto perché a noi ci piace fare rete con chi lavora veramente con chi ha i nostri stessi obiettivi e con chi veramente porta avanti ecco delle idee utili al territorio e soprattutto ecco che possano migliorare la nostra comunità quindi l'incontro con il direttore Michele Geria è stato un incontro ecco che ci ha portato oggi a siglare questo importante proprio con l'intesa il cinema le immagini che diventano anche strumenti importanti per virgolare messaggi di giustizia e di legalità e come dicevo prima per la prima volta questo progetto promosso da ABS Giustizia e Humanità Liberi di Scegliere entrerà a Reggio Film Fest quindi sarà proiettato il film Liberi di Scegliere insomma ci saranno con noi i vostri personaggi Alessandro Preziosi Monica Zapelli premieremo i cortometraggi degli studenti nasce dalla voglia ecco anche di realizzare di dar voce anche ai giovani calabresi e non solo che hanno talento di poter realizzare dei cortometraggi ecco e di far vedere anche le loro capacità le loro competenze le loro professionalità e poi chi lo sa possono nascere ecco delle nuove stelle ecco dei nuovi attori delle nuove attrici dei nuovi registi insomma dobbiamo anche come dire entusiasmare i giovani ecco a mettersi in gioco Michele è in attesa che anche quest'anno si riproponga il Reggio Calabria Film Fest dal 12 luglio ripetiamo la data dal 25 luglio al 25 luglio in collaborazione in parte con l'Officina dell'Arte per far sì che oltre al cinema si possa vivere anche un po' di teatro che comunque appunto come le sale cinematografiche si usa benissimo che anche i viaggi sono rimasti chiusi e sono tuttora chiusi se non qualcuno che ha avuto il coraggio comunque di arrivare in questi giorni ecco nell'attesa di conoscere tutto il parterre un protocollo di intesa con BS bene sociale con la Presidente Bruna Siviglia insomma vi state muovendo anche facendo sinergia e questo è un altro segnale positivo per Reggio sì infatti appunto ecco cioè sia oggi appunto che durante due parti che presenteremo comunque più avanti quando appunto avremo il palinsesto il palinsesto completo ma anche con ma ci sono anche altre sinergie abbiamo il protocollo di intesa anche con l'Accademia di Belle Arti e poi comunque c'è la Camera di Commercio che abbiamo un patrocino insomma questo piano piano ecco questo evento che da 15 anni che con tanti sacrifici partiamo avanti sta diventando un evento della città e quindi andrebbe anche istituzionalizzato per certi rezi sì sì il sindaco già l'anno scorso prima del Covid purtroppo poi è successo questa cosa avevamo ci aveva appunto dato la sua disponibilità la sua disponibilità gli abbiamo fatto e sarà pronto insomma poi è successo il Covid insomma si può bloccare tutta la burocrazia e dopo in questi giorni saremo convocati appunto per l'istituzionalizzazione di questo evento che deve essere come in tanti altri settati chiaramente non siamo a livello di Venezia deve essere strutturato all'interno del programma estivo un polmone culturale certo per diversi bene grazie a Michele Geriato grazie a te grazie